Sindaco di Penne Semproni, un anno dal vostro insediamento al Comune di Penne, un anno difficile, particolare, ci sono i presupposti però per riprendersi. Io credo che quello che è successo nel corso di questo primo anno di amministrazione non è mai successo agli altri amministratori. Abbiamo avuto di tutto e di più nel campo delle catastrofi meteorologiche, del terremoto, veramente un anno che ci ha provato però cerchiamo di uscire da questa situazione e posso anche dire che c'è stata un'aggiunta nel corso della quale abbiamo approvato la realizzazione dei must, cioè di quelle strutture nelle quali ospiteremo gli studenti dell'Istituto Tecnico Marconi che non possono rientrare nella sede ufficiale, quella del Palazzo Marconi che è stata purtroppo danneggiata dal terremoto. Stiamo uscendo dalle difficoltà, lentamente e con molti sforzi ma siamo fiduciosi. L'ospedale è un'altra spina nel fianco, ci stiamo battendo, sapete bene che abbiamo avuto a vari livelli degli incontri, è nato anche un comitato per la salvezza dell'ospedale di Penne, così un'aggregazione di cittadini e inoltre non dobbiamo dimenticare che è in corso sempre il ricorso al TAR che se ricordo bene si dovrà pronunciare non oltre il 22 giugno e vedremo poi come le cose andranno.